Ben tornati a Katzenger, Katzenger della buonanotte, un programma così inutile che nemmeno i black bloc si prendono la briga di distruggere Katzenger. Misteri medici, un diabetico può mettere un maglione dolce vita, Katzenger. Parità della donna nel terzo millennio, parleremo con un'esperta che ha studiato il fenomeno notte e giorno, quindi vi lascio immaginare come sono stirate male le camicie del marito, Katzenger. Speciale 80 anni di Giorgio Armani, il re della moda, il genio dello stile, un dio, questo e molto altro se mi manda un paio di giacche in omaggio, Katzenger. Katzenger il programma che per la tv italiana è come un porco spino al posto della spugna per la doccia, Katzenger. Animali, perché esistono i cani da riporto e non i cani da parrucchino? Katzenger, è vero che lo scrittore più amato dai cetacei è García Lorca, Katzenger? Persone paranoiche, faremo il punto appena quella signora smetterà di fissarmi in quel modo, Katzenger. È vero che in un mondo parallelo le farfalle che si innamorano sentono gli uomini nello stomaco, Katzenger? E infine il mistero dei misteri, è vero che la colf più bella del mondo si chiama Claudia Swiffer Katzenger!